Enrico, cos'è che cos'è oggi? Che cos'è oggi? E' la giornata contro la violenza sulle donne Hai ragione, pensa che il 31% delle donne hanno subito nella loro vita almeno una volta una violenza fisico-sessuale E addirittura nel 2021 ci sono stati 104 episodi di femminicidio E allora che dici? La vogliamo dedicare a una bella pizza a tema? E allora per sensibilizzare la campagna contro la violenza sulle donne? E' certo che te la faccio Vieni, 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 appesami, andiamo a stendere il disco di pasta sottile e senza cornicione Perché lungo il cornicione ci va la buonissima crema di ricotta E alla base il ragù, quello che sulle femmine sanno fa pappuglia E poi ancora le saporitissime polpette che sulle femmine sanno fa Un filo dell'examencine, hop là, in forno Tortura lenta, docile e mai aggressiva Proprio come dovrebbe essere un rapporto tra uomo e donna La pizza è pronta e va sfornata, si ma va anche completata E allora un boccone di bufala spaccata a quattro Il basilico a crudo è una pioggia di cacio ricotta del giletto Un filo d'olio e un guagliù Guardate quanto è bello Guardate che spettacolo Semplice ed efficace Replicate Valeria, eccola Wow, sembra un fiore Eh sì, e se lo vuoi sapere Ho usato le mani per fare questo fiore Anzi, questa fior di ragù Perché pure una pizza contro la violenza sulle donne Sa da sapere fa Ciao, aiuto